Negli scorsi mesi alcuni di voi mi hanno chiesto varie volte di spiegare la particolarissima figura di Gabriele D'Annunzio non tanto da un punto di vista letterario, quello che si affronta appunto in letteratura italiana, quanto da un punto di vista storico, perché D'Annunzio è stato certo un grande scrittore, un grande poeta, il poeta Vate addirittura, ma un grande romanziere, insomma un personaggio che ha segnato la vita letteraria italiana per decenni, ma soprattutto da un certo punto in poi della sua vita è diventato anche un personaggio pubblico e direi politico di primaria importanza in una fase che è andata prima e dopo la prima guerra mondiale, ha davvero tirato le file di un movimento in parte nuovo che si pose però prepotentamente sulla scena italiana portando all'estate in guerra nella prima guerra mondiale e poi anche in parte, anche se in maniera un po' controversa, un po' particolare, anche a influire sul fascismo. Ne parleremo e ne parleremo in un paio di video dedicato al tema, perché oggi parliamo dell'annunzio delle origini fino sostanzialmente alla prima guerra mondiale, poi parleremo dell'annunzio di guerra e dell'annunzio del dopoguerra. Andiamo a cominciare. Un solito di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio sempre doverosamente in apertura di ogni video, come ci sono i miei compagni d'avventura cioè Topolino Tostoi, Batman, DeAndrea, il mostro peloso e un altro mosticiatolo qua il cuscino dei miei studenti di quinta di quest'anno che si vede sempre meno, ma c'è diamogli un angolino per farlo vedere, non sarà mai su, e vabbè, facciamo così, ecco se no, si arrabbiano giustamente, io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia insegno nel liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e dal marzo del 2020 uso questo canale YouTube per realizzare e diffondere delle video spiegazioni di storia, di filosofia, a volte anche di educazione civica a volte anche degli audiolibri integrali sempre legati però alla storia e alla filosofia che servono un po' per seguire il programma che si fa alle superiori, un po' per concedersi qualche approfondimento che è molto utile, penso, almeno da quello che mi scrivono all'università un po' poi per chi è semplicemente curioso, appassionato, cultore della materia che sia la storia o che sia la filosofia e vuole così tenersi allenato o conoscere cose nuove oggi, come vi dicevo, nella premessa parliamo di Gabriele D'Annunzio cominciamo a parlare di Gabriele D'Annunzio, un personaggio che abbiamo già citato in vari video ma magari a passare, magari brevemente, per sommi capi, magari con l'interventismo nella prima guerra mondiale oppure con la cosiddetta impresa di fiume nel dopoguerra ma visto che alcuni che seguono il canale, non solo italiani ma anche stanieri mi hanno chiesto, ma questa strana figura di cui sentiamo parlare sempre non ci è molto chiaro che caratteristiche aveva, cosa pensava, che tipo di politico era e allora mi hanno chiesto un chiarimento, allora tanto vale farne un approfondimento appunto e una serie di video, anche perché, devo dire la verità, che io la figura di D'Annunzio ho dedicato molte letture nel corso degli anni, fino ai tempi dell'università non perché io abbia una passione per lo stile D'Annunziano, che fu uno stile molto particolare ma perché è proprio vero che la figura di D'Annunzio è particolare, è difficile da comprendere solitamente viene considerato un anticipatore del fascismo dal punto di vista politico un uomo di estrema destra, vero, ma in realtà vero solo fino a un certo punto, come vedremo perché in verità c'erano anche aspetti di sinistra nel pensiero di D'Annunzio che era un pensiero a volte un po' confuso dal punto di vista politico era un pensiero più letterario che politico, più da agitatore di folle che da politico teorico della politica quindi noi vedremo nel corso di queste, penso due o tre puntate che dedicheremo a D'Annunzio D'Annunzio è accompagnato da personaggi di estrema destra ma anche da personaggi di estrema sinistra e sta abbastanza bene con gli uni e con gli altri poi per carità spiccherà sicuramente l'aspetto di destra nazionalista, ipernazionalista, quasi nicciano e però il discorso è meno banale di quello che sembra e quindi cercheremo di capire un po' di delineare la figura di questo personaggio un po' particolare che però segna la storia dell'Italia di quegli anni perché anche l'Italia ebbe esso stessa una parabola un po' particolare tra la prima guerra mondiale e l'immediato dopo guerra prima di addentrarci però in tutti questi temi facciamo brevemente il punto sulla vita anche letteraria di D'Annunzio Gabriele D'Annunzio fu in primo luogo infatti un grande scrittore si fece conoscere, divenne famoso e direi fino a buona parte della sua vita fu principalmente un grande scrittore poi in realtà entrò anche il Parlamento relativamente presto ma divenne un capopopolo se vogliamo un uomo politico ma anche un militare, un condottiero militare solo verso l'età più tarra della sua vita quando ormai era già famoso, già maturo, già un uomo per l'epoca almeno che aveva passato gli anni migliori della sua vita un po' nella fase calante della vita nasce Gabriele D'Annunzio nel 1863 infatti quindi quando si arriva alla prima guerra mondiale ha più di 50 anni per farvi capire nasce nel 1863 a Pescara da una famiglia della giata borghesia abruzzese è terzo di 5 figli cresce abbastanza bene ha una infanzia piuttosto tranquilla bisogna dire l'unico particolare problema è il fatto che il padre tende a indebitarsi e questo sarà un tratto caratteriale molto presente anche in D'Annunzio lui stesso Gabriele quando sarà adulto si dimostra uno studente abbastanza capace, abbastanza motivato e studia alle superiori presso il prestigioso convitto Cicognini di Prato un istituto superiore un convitto nazionale che già all'epoca era famoso e importante qui dà prova di avere un certo talento anche per la scrittura tanto è vero che già a 16 anni pubblica la prima raccolta poetica chiamata Primo Vere e la pubblica anche con una sorta di escamotage per dire come già il giovane D'Annunzio fosse da un lato ispirato sicuramente abile con la penna sicuramente capace di scrivere ma allo stesso tempo sapesse anche in un certo senso curare i suoi interessi fosse un uomo dei suoi tempi capace di cogliere anche le opportunità del mercato in un certo senso perché? perché riuscì a farsi pubblicare quest'opera a 16 anni e ad avere anche un certo successo quest'opera perché lui stesso si preoccupò di mettere in giro la voce di essere morto che questo libricino di poesie era stato scritto da un giovane poeta già morto e quindi uscissero postume e in realtà non era per nulla morto ma la faccenda delle poesie postume attirò l'attenzione sul libro e gli fece avere un piccolo successo, un piccolo parziale successo dopo il diploma si iscrisse all'università ma non si laureerà mai e si trasferì invece a Roma dove perseguì inizialmente una carriera nel campo del giornalismo siamo negli anni 80 dell'800, l'Italia si è formata da un ventennio sta iniziando a crescere, si sta lentamente allargando il suffraggio si stanno istituendo le scuole, l'Italia sta cercando molto lentamente, molto faticosamente di diventare un paese moderno, anche il giornalismo si sta sviluppando ci sono molti giornali di vari orientamenti politici e Roma che era poco diventata la capitale perché è stata presa nel 1870 con la breccia di Portapia sta iniziando a vivere un certo fermento culturale è indietro rispetto alle altre capitali europee Roma non è paragonabile in questa fase a Parigi, a Londra neppure a Berlino probabilmente come vivacità intellettuale però sta cercando di recuperare un po' il tempo perduto effettivamente Danunzio riesce ad entrare in alcuni circoli intellettuali della città da giornalista ma riesce ad entrarci inoltre in questi anni 80 dell'800 inizia anche un'altra delle grandi passioni di Danunzio oltre alla letteratura e oltre ai debiti diciamolo così allo studio di vita abbastanza dispendido l'altra grande passione sono le donne che segneranno tutta la sua vita effettivamente si sposa anche abbastanza giovane con un matrimonio riparatore con una nobile una duchessa chiamata Maria Arduin il matrimonio dura molto poco dura appena 4 anni ma fanno in tempo ad avere 3 figli poi si è discusso a volte se fossero tutti i figli di Danunzio oppure no, vabbè, si interessa relativamente comunque, il matrimonio dura appena 4 anni poi ci sarà una separazione ma Danunzio avrà per tutta la vita una serie di amanti a volte anche prestigiose e abbastanza conclamate a cui dedicherà a volte anche opere poetiche opere letterarie o che ritarrerà nei personaggi dei suoi romanzi tra le più famose sono Barbara Leoni e Leonora Duse soprattutto che grandissima attrice del periodo del tempo divenne per certi versi anche la musa che spinse per una certa fase di Danunzio anche a comporre molte opere teatrali e poi molte altre Alessandra di Rudini che era figlia del marchese di Rudini che fu capo del governo l'abbiamo parlato in storia una donna che dopo la relazione con Danunzio riesce addirittura di farsi suora insomma, diciamo passare tramite una relazione con Danunzio non lasciava indifferenti nel bene e nel male Comunque già nel 1889 quindi dopo pochi anni a Roma Danunzio va incontro al primo grande successo letterario pubblica Il Piacere che è ancora oggi uno dei romanzi di Danunziani più studiati più apprezzati dalla critica anche se poi molto particolare pubblica questo romanzo Il Piacere che gli dà un grande successo e lo rende di fatto il principale esponente del decarentismo italiano il successo di questo romanzo lo porta a trasferirsi anche a lasciare Roma si trasferisce per un paio d'anni a Napoli poi si trasferirà a Firenze per circa un decennio quindi cambia città proprio durante la permanenza napoletana tra l'altro incontra per la prima volta la filosofia di Nietzsche di Friedrich Nietzsche siamo, ripeto, a inizio anni 90 dell'Ottocento Nietzsche è il periodo in cui sta impazzendo e sta per smettere di fatto di filosofare però le sue opere iniziano proprio quando Nietzsche va in decadenza fisica iniziano a diffondersi in Europa il Così parla Zaratustra ad esempio noi l'abbiamo anche letto dopo in una traduzione di fino all'Ottocento inizio al Novecento e vi metto in descrizione la playlist completa con la lettura integrale del Così parla Zaratustra ecco queste opere di Nietzsche hanno un certo impatto su Danunziani anche se poi lui riprenderà il superuomo niziano in termini un po' particolari un po' personali non sarà sempre molto fedele bisogna dirlo alla filosofia di Nietzsche al nocciolo della filosofia di Nietzsche riprenderà delle suggestioni alcune idee ma poi declinandole in base ai suoi interessi però insomma sicuramente il contatto con la filosofia di Nietzsche è importante vi dicevo tra il 1894 e il 1904 si trasferisce per un decennio a Firenze e lì in particolare lo fa perché vuole stare vicino a Eleonora Duse l'amante di quel periodo che lo spinge in qualche modo a scrivere anche molti drammi teatrali ma in questo periodo pubblica anche la sua principale opera poetica che è l'Alcione poi nel 1904 lascia anche in Firenze e si trasferisce in Francia perché direte voi perché Parigi è la capitale intellettuale dell'Europa si in parte anche per quello ma soprattutto perché in Italia è cercato dai creditori nel senso che come vi dicevo l'annunzio ama vivere nel lusso ama vivere nello sfarzo e per questo motivo ha contratto un'enormità di debiti che non riesce a pagare che non riesce a soddisfare nonostante il buon successo letterario delle sue opere nonostante poi si faccia pagare a peso d'oro ormai gli articoli che scrive e però spende troppo anche per gli introiti che ha e quindi scappa in Francia sostanzialmente per scappare dai creditori si rifugia in Francia in Francia vive anche lì per un decennio dal 1904 al 1915 ma vabbè entra in contatto poi con ambienti francesi eccetera ma rimane in contatto anche con l'Italia soprattutto inviando periodicamente degli editoriali degli articoli soprattutto per il Corriere della Sera che pubblica anche pagandoli in maniera abbastanza cospicua i suoi articoli dalla Francia applaude alla guerra di Libia che l'Italia combatte ricorderete con Giolitti poco prima della prima guerra mondiale in descrizione vi metto un link storico a quel periodo ma poi soprattutto dalla Francia assiste a quello che sta scoppiando in Europa tra il 1914 e il 1915 cioè alla prima guerra mondiale come ricorderete nel 1914 scoppia questo grande conflitto prima europeo poi mondiale Francia e Regno Unito entrano subito in guerra contro la Germania e più altre potenze ma l'Italia la resta a guardare per tutto il 1914 e per l'inizio del 1915 l'Italia vira sulla neutralità vuole starsene fuori vuole rimanere fuori e guarda gli altri combattere d'annunzio già da subito ma in maniera molto più intensa nella primavera del 1915 invece decide di intervenire e tornerà in Italia ed regia una campagna fortissima diventando uno dei protagonisti della scena politica italiana questo per dire cosa accade d'annunzio dal punto di vista personale letterario fino a che non assume questo ruolo importante ma in realtà di politica d'annunzio si era già occupato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento e adesso lo vediamo infatti in realtà Gabriele D'Annunzio aveva già provato a buttarsi in politica prima dei 40 anni poco più di 30 anni nel 1897 negli anni più caldi della politica italiana di quel tempo ricorderete che questi sono gli anni della cosiddetta crisi di fine secolo anni in cui i governi spesso di destra Crispi magari appartenenti alla sinistra storica come Crispi ma di destra nei modi e nei fatti Crispi lo stesso di Ludinì e altri reprimono con grande violenza le prime agitazioni popolari le prime agitazioni anche operaie che in Italia iniziano a smuovere le masse ecco in questa fase storica in questa crisi in questa difficoltà del periodo con ancora Umberto I re d'Italia che poi verrà ucciso nel 1900 Gabriele D'Annunzio che è già un personaggio letterario di un certo peso già importante famoso nonostante appunto abbia poco più che 30 anni si candida alla camera viene letto nelle file dell'estremo destra quindi apparentemente legato agli ambienti più reazionari più conservatori eccetera già l'anno dopo però già nel 98 in pratica una prima rottura importante con un celebre discorso si distacca dalle scelte della stessa destra repressive vi ricorderete che nel 1898 infatti in Italia ci sono dei grandi moti che culminano in una durissima repressione i fatti di Milano quando il generale Bava Beccaris cannoneggia direttamente la folla in descrizione vi metto un video a riguardo se volete andarvi a recuperare quei ricordi e D'Annunzio si stacca dalla scelta del governo tant'è vero che inizia in quel momento una fase sempre più dura critica contro il governo di Pellù in particolare contro le leggi che lo stesso D'Annunzio chiama leggi liberticide di questi governi di destra e lo portano queste proteste nel 1900 a passare ad abbandonare l'estrema destra in Parlamento e a schierarsi con l'estrema sinistra quindi far proprio una svolta non dico a 360 gradi perché la destra e la sinistra del tempo non sono la destra e la sinistra di oggi però insomma una svolta abbastanza radicale non solo a partire dal 1900 e per qualche anno più o meno fino al 1906 D'Annunzio dall'estrema sinistra sembra guardare con un certo favore al partito socialista non entra mai nel partito socialista rimane fuori rimane esponente di altri gruppi parlamentari ma sembra aperto disponibile al dialogo anzi in certi scritti addirittura esalta il vitalismo la forza vitale la capacità di coinvolgere le masse del partito socialista che si è formato da poco che è entrato in Parlamento e sta iniziando a premere crescere insomma fare agitazioni ecco D'Annunzio sembra schierarsi dalla parte del partito socialista quindi con gli operai contro i padroni ma quello che conta non è tanto l'ideologia non certo D'Annunzio non aderirà mai all'ideologia marxista che era invece la base del partito socialista ma quello che apprezza di questo partito e che sarà poi il motivo ricorrente di tutta la sua carriera politica è appunto questo vitalismo questo desiderio di cambiare le cose anche tramite l'uso di proteste di piazza anche tramite la capacità di guidare le masse soprattutto in maniera forte vivace anche violenta se serve perché perché la polemica che D'Annunzio porta avanti è prima ancora che politica una polemica direi sul carattere degli italiani D'Annunzio si affeziona facilmente e qua già lo si vede a quelle forze politiche che dimostrano gioventù spirito di ribellione esaltazione della forza voglia di cambiamento contro invece le vecchie forze politiche da cui D'Annunzio ormai si è distaccato e verso cui diventa estremamente critico le vecchie forze politiche che sono invece il simbolo del passatismo del sedersi sugli allori della quiete della tranquillità della borghesia ecco D'Annunzio rifiuta tutto questo quello che lui odia più di tutto e lo porterà sempre più in evidenza nel corso degli anni è proprio questo l'atteggiamento piccolo borghese l'atteggiamento degli affaristi di chi vada a fare piccoli passi un po' alla volta ad accomodare le cose e infatti il bersaglio polemico sempre più importante che D'Annunzio già in questi anni inizia a individuare è quello di Giovanni Giolitti Giolitti è il capo del governo che domina la scena nei primi anni del novecento in Italia esponente del partito liberale fa autore poi anche di una politica di distensione nei confronti del partito socialista ma Giolitti è proprio l'uomo del compromesso l'uomo dell'accomodamento l'uomo delle piccole trattative delle decisioni in presenza nei palazzi mai nelle piazze dell'abilità diplomatica dei giochi di potere degli affari se vogliamo dirla così eccetto mai delle decisioni avventate mai della piazza mai dell'impulso dell'impeto e della forza ecco D'Annunzio odia tutto questo perché questo condanna in Italia ad essere un'italietta lui la definisce meschina e pacifista povera piccola mentre D'Annunzio inizia a sognare un'Italia grande infatti dopo la prima fase che dal 1900 al 1906 lo vede abbastanza vicino al partito socialista tanto si rifugia in Francia vi ricordate dalla Francia nel 1910 aderisce all'associazione nazionalista italiana una nuova organizzazione politica fondata da un giornalista Enrico Corradini ne abbiamo parlato anche nei video di storia che è il primo gruppo che tenta di portare avanti in politica un nazionalismo italiano quindi un partito di destra anche di destra abbastanza forte non dico estremissima ma insomma di destra destra che esalta l'Italia che esalta il nazionalismo e anche in questa forza D'Annunzio vede appunto questa voglia di rivalza questa voglia di potenza questa voglia di forza e di gioventù quindi vedete D'Annunzio che questa fase passa abbastanza senza troppi problemi dall'estrema sinistra all'estrema destra nel tempo alla ricerca di forze che però si pongono in maniera nuova rispetto alla politica rispetto alle masse rispetto alla partecipazione la vera grande svolta però appunto arriva nel 1915 ricorderete che l'Italia appunto nel 14 quando è scoppiata la guerra ha deciso di rimanere neutrale nonostante al governo ci sia a Salantra che non è Giolitti è sempre un liberale ma un liberale è già meno accomunante di Giolitti però per il momento l'Italia è rimasta neutrale perché perché l'Italia sarebbe alleata in realtà nella triplice alleanza con Germania e Austria ma al momento non avrebbe nessun interesse a combattere assieme a Germania e Austria piuttosto potrebbe avere un interesse a combattere contro non tanto la Germania ma soprattutto contro l'Austria perché l'Italia ha due grandi aspirazioni da tempo Trento e Trieste poi vabbè anche l'Istria e la Dalmazia ma insomma vuole completare l'unificazione e l'ostacolo è l'Austria quindi l'Italia al momento è fuori ma se proprio dovesse entrare già da tempo in Italia si dice potrebbe entrare dall'altra parte denunciando il vecchio trattato di alleanza con Austria e Germania e passando con l'intesa cioè con Francia Regno Unito e Russia questo discorso però si fa un po' sotto banco perché in realtà la scena è dominata dai cosiddetti neutralisti ci sono alcune voci interventiste ci sono gli irredentisti quelli che vengono proprio dalle città di Trento di Trieste che spingono ci sono alcuni gruppi industriali che iniziano a spingere ci sono i nazionalisti che spingono ma la maggior parte dell'opinione pubblica italiana ma soprattutto del Parlamento italiano è spiccatamente neutralista sono neutralisti quasi tutti i socialisti a parte una piccola parte tra cui Benito Mussolini e altri che poi vedremo sono neutralisti soprattutto i giolittiani i liberali a parte qualcuno ma insomma la maggior parte dei giolittiani tant'è vero che Giolitti ha detto noi stiamo ne fuori e il Parlamento è abbastanza evidente non voterà per come stanno in questo momento le cose nella primavera del 15 l'entrata in guerra dell'Italia perché? perché Giolitti in una famosa intervista mi ha lasciato a un giornale romano dice più o meno parole quasi testuali dice a noi conviene rimanere neutrali perché dalla nostra neutralità si può guadagnare parecchio questa espressione del parecchio verrà ripetuta più volte l'uomo del parecchio Giolitti cosa intendeva dire Giolitti? Giolitti intendeva dire che l'Italia per il momento era fuori poteva minacciare di entrare e minacciando di entrare poteva ottenere tanti vantaggi dire Giolitti era andiamo dall'Austria diciamo all'Austria parlamentiamo con l'Austria diciamole guarda cara Austria noi siamo pronti ad entrare in guerra contro l'Italia alleandoci con Francia e Inghilterra cosa ci offri perché noi non entriamo in guerra contro l'Italia? e Giolitti dice guardate che l'Austria potrebbe offrirci molto perché? perché per l'Austria aprire un altro fronte l'Austria sta già combattendo con la Serbia e sta aiutando la Germania con la Russia aprire un altro fronte a sud contro l'Italia per l'Austria potrebbe essere drammatico impossibile da sostenere quindi l'Austria potrebbe farci grandi concessioni per tenerci buoni e potrebbe concederci dice Giolitti Trento e Trieste senza colpo ferire in fondo noi stiamo entrando in guerra per prenderci Trento e Trieste ma forse possiamo averne anche senza spendere neanche una vita umana senza neanche dover combattere questo è il discorso di Giolitti il ragionamento di Giolitti che fa sui giornali che porta avanti anche in Parlamento e che per il momento sembra dominare perché l'Italia effettivamente è rimasta neutrale ma è un discorso che ad annunzio e ad altri come lui non piace per nulla perché di nuovo è un discorso come dicevo prima da Italia affarista da Italia accomodante da Italia che si accontenta mentre gli altri paesi combattono per la supremazia in Europa l'Italia sta a guardare e al limite si accontenta delle bricio lo fa piccoli patti per avere anche qualcosa di utile ma senza guadagnarsi davvero sul campo come se l'Italia avesse sempre paura di combattere paura di dimostrare il proprio valore e d'annunzio decide in qualche modo di intervenire anche perché mentre Giolitti fa questi discorsi mentre la maggior parte del paese è neutralista una minoranza ma importante sta lavorando in realtà per l'entrata in guerra dell'Italia chi sta lavorando? ci sono grossi gruppi industriali che finanziano giornali perché facciano campagne interventiste ad esempio il popolo d'Italia il nuovo giornale di Mussolini appena cacciato dal partito socialista è probabilmente finanziato da gruppi industriali che vorrebbero spingere per l'entrata in guerra dell'Italia ci sono gli etredentisti ve l'ho già detto ma poi ci sono anche lo stesso re e il governo che stanno lavorando per l'entrata in guerra dell'Italia Vittorio Emanuele III re d'Italia e Antonio Salandra capo del governo stanno parlamentando con le potenze dell'intesa per entrare in guerra e a fine aprile firmano un patto che si chiama patto di Londra perché viene firmato appunto a Londra che prevede che l'Italia entri in guerra entro un mese quando il governo italiano firma questo patto il Parlamento intanto non ne sa nulla prima cosa seconda cosa se si votasse in Parlamento il Parlamento direbbe no e quindi firmano un patto prendendosi un impegno che potrebbe essere facilmente sconfessato dal Parlamento allora questo avviene a fine aprile e il patto di Londra dice entro un mese l'Italia deve entrare in guerra quindi entro a fine maggio l'Italia deve entrare in guerra da quel momento in poi inizia una fortissima campagna di stampa ed opinione per spingere per l'entrata in guerra una campagna che si fa sui giornali e soprattutto nelle piazze e Gabriele Danuzio diventa il capofile di questa campagna il 5 maggio del 1915 Danuzio dà il via questa grande campagna scendendo in Italia tornando in Italia dirigendosi a Genova e celebrando una cerimonia importante a quarto quarto è lo scoglio a Genova praticamente vicino a Genova da cui nel 1860 partì Garibaldi con i Mille da cui iniziò quindi l'impresa dei Mille la risalita dell'Italia vi ricordate ve lo vedo in descrizione se non ve lo ricordate Garibaldi sbarcò in Sicilia conquistò la Sicilia ritorna su dove poi unì l'Italia consegnando l'Italia a Vittorio Emanuele II in quel caso era successo nel 60 adesso siamo nel 15 sono passati 55 anni il 5 maggio si celebra il 55esimo anniversario della partenza e normalmente ogni anno si faceva una piccola celebrazione ma in questo caso va ad annunzi a quarto a fare lui il discorso celebrativo c'è un monumento Garibaldi insomma e soprattutto ci sono due fattori importanti prima cosa c'è un sacco di gente a quarto ad ascoltare l'annunzio segno che non è una cerimonia come le altre non è la classica cerimonia dove così si fa un po' di classico discorso commemorativo e morta lì no è un'occasione speciale ci sono tante persone secondo aspetto l'annunzio fa un discorso di stile nuovo di tipo nuovo un discorso che viene spesso definito con uno stile tribunizio un discorso che ha un grandissimo successo un enorme successo sulla popolazione lì che poi viene riportato dai giornali nei giorni successivi e da lì parte questa campagna questo maggio radioso le radiose giornate di maggio come verranno dette proprio dagli interventisti perché? perché da lì in poi siamo al 5 maggio e per tutto il mese per un paio di settimane almeno perché poi attorno ai giorni 20-25 si decide di entrare in guerra per un paio di settimane abbondanti d'annunzio e altri si recano nelle principali città italiane soprattutto del centro-norte e fanno comizi di fatto a Quarto a Milano a Roma comizi pubblici a volte nei teatri a volte nelle piazze portando molte persone ad ascoltarli sono minoranze perché non sono tutta la popolazione ma sono minoranze molto agguerrite che pensano se facciamo pressione se riusciamo a spingere l'Italia alla fine cederà il Parlamento cederà e l'Italia entrerà in guerra questo discorso era molto particolare e come dicevo aprì una pagina nuova proprio un nuovo stile che poi sarebbe stato fatto proprio anche da altri oratori in particolare da Benito Mussolini quando si studia il fascismo si sofferma molto su questo stile oratorio enfatico scandito iperretorico che usava Mussolini nei suoi discorsi alla folla al pubblico da Piazza Venezia con i Piazza Venezia o da altri luoghi in cui lo faceva ecco si è molte volte suggerito che questo stile Mussolini l'abbia affinato con l'esercizio ovviamente a partire dall'inizio della sua attività politica sapete che Mussolini fu prima socialista socialista vicino al sindacalismo rivoluzionario e poi invece fondatore e poi principale esponente del fascismo ebbene questo stile di Mussolini doveva qualcosa sicuramente allo stile di D'Annunzio e uno stile che lo stesso D'Annunzio andò affinando nel corso dei mesi degli anni che non è che avesse più di tanto esercitato prima D'Annunzio era stato un grande scrittore era stato che tendeva a essere un grande poeta anche giornalista perché scriveva articoli di un certo peso ma scriveva voglio dire su carta non era un oratore pubblico certo aveva fatto un po' di esperienza parlamentare aveva tenuto qualche discorso ma non c'era l'abitudine la costanza a parlare alle folle nelle piazze non era un costume dell'Italia del tempo non era un costume della politica oggi siamo abbastanza abituati che un politico anche abile tenga dei comizi nelle piazze e se magari riesce a in certi momenti storici molto particolari a coinvolgere le folle venga anche applaudito susciti entusiasmi eccetera all'epoca non si era minimamente abituati a tutto questo i primi a fare qualcosa del genere erano stati socialisti appunto che si erano rivolti però alle classi umili alle classi degli emarginati soprattutto promettendo cambiamenti promettendo maggiori diritti maggiori riforme ora arrivava d'annunzio che intanto non si rivolgeva ai diselerati non prometteva aumenti salariali o diritti ma parlava di tutt'altro e usava un linguaggio estremamente elevato ma addirittura sacrale è abbastanza interessante leggere alcune delle frasi del discorso di quarto adesso ve ne mostrerò anche alcune a video per capire il tono sembra quasi non dico un sermone ma addirittura di più di un sermone cioè il linguaggio di annunzio è alto elevato e si appella moltissime volte a termini che sono propri delle religioni quasi a voler creare un corpo sacro del popolo nazione come si faceva una volta con la chiesa che si deve fare devoto e propugnatore di un ideale più alto cosa accade nelle religioni anche nella religione cattolica cosa accadeva soprattutto nelle fasi in cui queste religioni erano molto forti e molto sentite che il corpo dei fedeli intanto si sentiva unito in un corpo unitario in una sorta di chiesa invisibile come si dice nel mondo cattolico un'entità sovrumana che prende tutti gli esseri umani che fanno parte di quel gruppo e poi soprattutto questa chiesa vivente invisibile si deve riallacciare a Dio deve elevarsi staccarsi dalla materialità e accedere a valori più alti a valori divini a valori religiosi questo accade nelle religioni ma si sta tentando di creare una sorta di religione laica che però segue le stesse modalità della religione vera e propria quindi non più appellarsi a Dio non più creare una chiesa viva ma creare un corpo comunque unitario che è quello della nazione che si eleva si sente unito e si eleva ispirandosi a dei valori che non sono i valori del cristianesimo di Dio della religione ma sono i valori della nazione della patria del nazionalismo dell'Italia questo è il tentativo abbastanza palese non so quanto poi teorizzato da Danunzio ma di cui lui si fa portatore che lui porta in campo che lui mette in campo qualcosa di nuovo perché vengono coinvolte le masse ma non le masse operai che rimangono fredde davanti a questi discorsi anche perché il linguaggio stesso di Danunzio è una barriera non è che uno che ha fatto solo la seconda elementare o non ha proprio fatto l'elementare che ha un alfabeto possa comprendere questo linguaggio di Danunzio quindi già quella è una barriera che esclude le masse più povere dal discorso ma è un discorso che si rivolge quindi alla borghesia alla piccola borghesia soprattutto a quella stessa piccola borghesia che magari è stata affarista ma adesso vuole nobilitarsi vuole elevarsi vuole diventare quasi un'aristocrazia italiana Danunzio è stata di rivolgersi a una minoranza degli italiani ma lui ritiene che questa minoranza sia la minoranza migliore degli italiani che quindi questa parte più piccola ma migliore degli italiani debba guidare anche tutto il resto del paese vediamo un po' questo discorso vediamo alcune frasi che ho selezionato ve le mostro anche a schermo così sentite un po' anche la voce indirettamente di Danunzio scriveva e diceva Danunzio voi volete un'Italia più grande non per acquisto ma per conquisto quindi con queste figure retoriche non a misura ma a prezzo di sangue e gloria quindi vedete qua c'è una polemica con Giolitti volete un'Italia grande non per acquisto non perché prendere le terre perché qualcuno gliele dona prestarsene buone e disparte ma per conquisto cioè per conquista cioè volete che l'Italia diventi grande non perché ha fatto gli affari sotto banco ma perché si lega le nette sul campo come dicevo prima perché ha dimostrato la sua forza e il suo valore e poi dice non a misura ma a prezzo di sangue e di gloria serve il sacrificio del sangue sono anche toni diciamo così razziali quasi sotto traccia quando si parla di sangue di sangue italiano eccetera però c'è anche il tentativo di riallacciarsi a una tradizione che a quarta aveva un suo motivo una sua ragione d'essere attenzione mi dicevo questo discorso D'Annunzio lo fa in occasione dell'anniversario della partenza dei mille e D'Annunzio sta cercando come faranno anche altri di riallacciare la prima guerra mondiale all'esperienza risorgimentale in fondo cos'era accaduto nell'ottocento quando si era fatta l'Italia 50 anni e rotti prima che una generazione di patrioti non la maggioranza della popolazione perché gli italiani erano per la maggior parte indifferenti a quello che accadeva nell'unificazione ma una minoranza ristretta ma molto motivata ispirata a valori più alti a valori risorgimentali della patria dell'onore della nazione di Massini eccetera proprio Massini che aveva anche lui se vi ricordate vi metto in descrizione un link su Massini parlato di una religiosità laica da costruire con la patria come baricentro ebbene il tentativo dell'annunza è quello di rilacciare l'esperienza della prima guerra mondiale in cui vuole che l'Italia entri all'esperienza del risorgimento la abbiamo combattuto la gli italiani i pochi coraggiosi hanno fatto l'Italia adesso noi i pochi coraggiosi dobbiamo far grande l'Italia vincendo combattendo al limite anche morendo per l'Italia l'Italia chiamò come dice anche l'inno in enfasi retorica altre frasi del discorso di quarto o beati quelli che più danno perché più potranno dire più potranno ardere beati i giovani affamati di gloria perché saranno saziati sembra quasi il discorso delle beatitudini il discorso della montagna di Gesù beati i poveri beati solo che Gesù dice beati i poveri beati gli ultimi qua invece l'annunzio si dice beati quelli che più danno perché più potranno dare e più potranno ardere cioè l'idea del fuoco come sacrificio bruciare per un sacrificio che è un sacrificio rituale quindi anche religioso di nuovo beati i giovani affamati di gloria perché saranno saziati e più avanti sempre nello stesso discorso quasi a creare si dice a volte un corpo mistico con il popolo l'annunzio inizia anche a dialogare con la massa che li presenta ed è anche questa una cosa nuova non solo comizi ma anche botta e risposta cosa che Mussolini farà frequentissimamente e che riprende l'annunzio perché nella tradizione oratoria italiana recente non c'era niente di tutto questo c'era a volte appunto nei discorsi dei tribuni del passato di Roma o qualcosa lo facevano i socialisti ma mai in questi termini cosa fa l'annunzio vi scrivo ancora a un nuovo schermo cosa chiede a un certo punto dice udite udite la patria è in pericolo la patria è in un punto di perdimento intendete avete inteso e il popolo risponde si questo vuole il mestatore di dronero la folla risponde a morte il mestatore di dronero è Giolitti era un soprannome che l'annunzio gli aveva dato e che continuerà a usare anche in altre occasioni cioè vuole che la patria sia in pericolo che la patria non si esalti vuole Giolitti ma voi siete d'accordo con lui no sì eccetera botta e risposta domande retoriche domande che hanno già una risposta inevitabile ma l'annunzio aspetta che la folla risponda e la folla risponde con entusiasmo perché si sente coinvolta in questo discorso in questo dialogo col Vate il poeta Vate il poeta che guida e che adesso vuole guidare anche la nazione dal punto di vista politico certo non è che l'annunzio abbia ambizione a guidare il governo ma ambizione a incidere sulla scena questo discorso di quarto è il punto d'avvio di un processo che poi continua sarà anche un celebre discorso in teatro in cui l'annunzio attacca fortissimamente giolitti con molta violenza e la gente poi andrà anche a molstare giolitti dopo questo discorso insomma ci sono vari momenti di crisi di forza di d'annunzio ma la campagna ha successo perché effettivamente alla fine verso la fine di maggio quando Salandra e Vittorio Manuel III comunicano rifatto la firma del patto di Londra e chiedono al Parlamento di votare il Parlamento messo con le spalle al muro alla fine vota a favore tra il 20 maggio e pochi giorni dopo il 24 maggio l'Italia entra in guerra prima vota i pieni poteri Salandra poi il 24 di chiara guerra segno che la campagna di d'annunzio che magari è inciso su certo un certo numero di persone ma non su tutta l'Italia però ha raggiunto lo scopo quello di smuovere l'Italia quello di spingere l'Italia all'intervento attenzione la voce d'annunzio non è affatto l'unica in questo momento nel 14-15 ci sono varie voci dell'interventismo anche intellettuale italiano ci sono i futuristi ad esempio che anche loro esaltano la guerra la guerra solo ai genere del mondo diceva Filippo Tommaso Marinetti e anche loro fanno discorsi molto simili a quelli di d'annunzio bisogna dire no a Giolitti l'affarista bisogna scegliere la velocità bisogna scegliere l'impeto bisogna scegliere la battaglia quindi scegliere la guerra parole simili anche se d'annunzio lo sarà mai ovviamente un futurista ma ci sono anche quelli di La Cerba che è una rivista che ha un certo successo che insistono su questa direttrice ce ne sono vari non è l'unica voce quella di d'annunzio però d'annunzio è quello che forse per primo incide e quindi tende a diventare un po' il capofila di questo movimento anche composito ampio che a un certo punto prende dentro anche i socialisti rivoluzionali una parte dei socialisti rivoluzionari che dicono ma dovremmo entrare in guerra c'è anche questo Mussolini che è un personaggio forse per il momento di secondo piano ma inizia a farsi notare anche lui e ce ne sono altri corridoni eccetera sarebbe troppo lungo adesso di squisire di tutti però ecco D'annunzio mostra già un un atteggiamento nuovo un modo di esprimersi nuovo un ruolo nuovo che poi diventerà importante e avrà un certo peso ecco questo ci permette di vedere cosa è stato Gabriele D'annunzio negli anni dalla nascita praticamente fino al 1915 nei primi 50 anni erotti di vita fino a che non diventa un personaggio di primo piano sulla scena politica la prossima puntata della nostra serie sarà dedicata all'impresa della prima guerra mondiale perché D'annunzio nonostante l'età partì per il fronte poi fece azioni un po' particolari ne parleremo il ruolo su Vienna la Beffari Buccari e altre cose ancora e poi parleremo anche del dopoguerra perché se si fa notare diventa famoso incita le truppe durante la prima guerra mondiale ancora più importante quello che fece dopo nei pochi mesi in realtà di creare il protagonismo di D'annunzio perché poi già nel 21 e 22 D'annunzio si ritira praticamente in un esilio dorato o esilio per modo di dire poi sempre in Italia a Gartone Riviera come sapete nella sua nella sua villa maestosa eccetera e lì ne parleremo però in questo breve intervallo di alla fine 6-7 anni 5 anni D'annunzio è davvero un personaggio di primo piano nella scena e vale la pena capire anche le sue evoluzioni i suoi atteggiamenti e le novità che porta all'interno del dibattito per oggi però ci fermiamo qui vi ricordo che in descrizione trovate i titoli che sono comparci qui mentre spiegavo trovate anche i link agli altri video che ho citato e trovate anche e soprattutto i link alle list principali ai social network e alla newsletter settimanale se volete me ne informate in più come sempre ultimamente metto anche una veloce bibliografia se volete poi comprarvi qualche libro approfondire sull'argomento e poi ci sono anche i modi per sostenere il canale se vi piace quello che facciamo volete darci una mano date un'occhiata lì potete fare in mille modi diversi ma grazie a chi ha fatto e a chi ancora farà ho finito ci vediamo presto per andare avanti con il discorso sull'annunzio e poi per altri video di storia filosofia ed educazione civica ciao alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao